Ehi, saluti ragazzi, questo è il Poter Melon Channel e benvenuti in questa video risposta. Era da tempo che non facevo un video di questa rubrica, però ci tenevo a rispondere a questa domanda che mi è stata fatta in privato su Instagram. La domanda è la seguente. Ciao, ho appena visto il video di come usare Xbox senza avere la console. Perché sì, si possono giocare giochi anche se non avete Xbox con il Game Pass Ultimate che vi permette di giocare con il Cloud Gaming. Ho una domanda. Io ho un computer che si usa per le cose basi, i giochi non le supporta più di tanto, ma se io metto Xbox, li posso giocare ai giochi senza problemi? La linea mi va veloce. Allora, allora. In realtà non è così semplice come si pensa, perché è vero che il Cloud Gaming e Cloud Streaming vi permette di giocare a tantissimi giochi, però per quanto voi possiate avere anche una connessione super veloce che quindi di norma vi permette di giocare a tutti i giochi, chiaramente se avete un computer datato o che comunque non è eccellente nelle prestazioni, sarà complicato poter giocare a tutti i giochi. Certo, se avete un computer con un processore, per esempio i 3, non vi aspettate di giocare a Elden Ring, oppure comunque ai giochi disponibili per il Cloud Streaming di ultima generazione. Quindi chiaramente quelli ottimizzati per Xbox Series X ed S, che sono gli ultimi, le ultime console uscite, quindi con una tecnologia più avanzata, certamente non vi aspettate di poterli far girare. C'è da dire però che comunque Xbox offre un'ampia gamma di titoli giocabili del Cloud Gaming, quindi anche se non avete Xbox potete giocare a tantissimi giochi, anche con un computer più datato, che però chiaramente non sono le ultime uscite, però potete comunque giocare a tantissimi giochi disponibili sul Cloud Streaming. Per ogni gioco ci sono delle caratteristiche che appunto il vostro PC deve soddisfare, quindi stesso in quel momento vi potete rendere conto se a quel gioco potete giocarci oppure no. Tutto è molto relativo, tutto dipende da una serie di fattori. Quindi ragazzi io ci tenevo a rispondere a questa domanda che mi è stata fatta più più volte, però ho colto l'occasione per rispondere una volta e per tutte e tutti in un video. Come al solito, per qualsiasi dubbio o chiarimento scrivetemi nei commenti e ci vediamo alla prossima. Ciao!